Ciao a tutti e tutte e buon primo maggio. Siamo chiusi in casa, ci dispiace, e ci dicono che è colpa del coronavirus. Io penso che il coronavirus, più che essere la causa, sia l'effetto di una situazione che non funziona. Come avrebbe detto Walter Benjamin, il coronavirus è un segnalatore di incendio, non è l'incendio. L'incendio è un'Unione Europea che è incapace di mettersi insieme per combattere la crisi, che è incapace di usare la Banca Centrale Europea a favore di tutti. L'incendio è un modo di produzione che sta distruggendo la natura su scala globale. L'incendio sono dei sistemi sanitari che sono stati privatizzati e che non servono a difendere la salute dei cittadini. Allora noi dobbiamo sapere che questo è l'incendio da spegnere e forse, nell'esperienza di queste settimane, viene anche fuori un'indicazione di come fare, perché per la prima volta nella sua storia tutta l'umanità è stata minacciata dallo stesso pericolo e tutti gli uomini e tutte le donne hanno percepito questo comune pericolo. Non c'era confine, non c'era colore della pelle, non c'era religione, non c'era muro che potesse fermare il virus. E allora io penso che da questa esperienza di comune pericolo noi dobbiamo proporre una possibilità di comune salvezza. Si chiama lotta per l'eguaglianza, per la libertà, per il rispetto dell'ambiente, si chiama lotta per il socialismo. Sono i grandi valori del primo maggio che noi dobbiamo oggi qui riproporre in questo 2020. Si tratta di difendere il lavoro, si tratta di difendere i lavoratori, si tratta di difendere la natura e mettere insieme queste cose è il compito di chi come noi questo mondo non solo lo vuole mantenere ma lo vuole migliorare. Buon primo maggio a tutte e tutte.